Ma ci andiamo senza dubbio con il fatto che non parli a fare presso la nostra visione, il nostro parere valorevole al buono, cercando di contribuire per quanto possibile anche delle conferenze unificate e delle istituzioni. Infatti riteniamo che si tratta di una forma che potrà influire positivamente e potrà avere un impatto valorevole sul sviluppo economico-sociale del Paese, sia in termini di sostanzialità dalle comuni, sia in termini economici e occupazionali.